Alla fine il Comune di Sapri non ha consentito al Comitato Cittadino l'accesso agli atti relativi al progetto di riqualificazione di piazza Prebiscito. Dopo un lungo tira e molla, residenti e commercianti che compongono il Comitato non si ritrovano in mano i documenti che gli erano stati garantiti dagli uffici municipali. Nel frattempo sono scaduti i termini della gara per l'affidamento dei lavori e non si sa se ci sono imprese che si sono candidati al bando oppure no. Il sindaco aveva promesso un incontro chiarificatore e i funzionari comunali gli atti. Entrambe le promesse sono cadute nel vuoto e così il Comitato si è rivolto al gruppo di minoranza di Sapri Democratica. Lunedì prossimo i consiglieri di opposizione si recheranno in municipio per accedere agli atti e conoscere il risultato del bando di gara. Al momento dicono non abbiamo nulla di concreto tra le mani. L'unico dato sconfortante è che a dei cittadini di Sapri è stato impedito di prendere visione di un progetto che interessa il loro futuro ma anche quello dell'intera città. Per il momento disponiamo dei dati fornitici dal Comitato cittadino, documenti che mostrano delle irregolarità nell'iter relativo alla progettazione. Sembra infatti, dice la minoranza, che mancherebbero alcuni permessi, tra le altre cose non si comprende che progetto è stato mandato in gara. E quindi se i parcheggi sono stati previsti nella piazza e in area ad esse limitrofe oppure la piazza, così come si evince dal progetto che circola, sarà resa tutta pedonabile. In questo fine settimana il Comitato cittadino si riunirà nuovamente per analizzare quanto accaduto negli ultimi giorni e mettere a punto altre azioni a tutela dei sapresi che vivono e lavorano attorno a piazza Plebiscito. Gli stessi ribadiscono che sono favorevoli alla riqualificazione ma ad una riqualificazione condivisa con la città.